buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome rossella pani io sono una messaggera dell'arcangelo michele e una coach energetica e in questo video vi parlerò di una tecnica molto potente che può assolutamente aiutarvi a manifestare i vostri sogni e i vostri obiettivi personali il processo di manifestazione dei nostri sogni e obiettivi avviene quando le energie sono allineate per energia si intende i nostri pensieri le nostre emozioni il nostro focus e le nostre azioni ok perché se una di queste energie sbilanciata è difficile manifestare i nostri desideri per chi non conosce la legge della trazione la legge della trazione una legge secondo la quale per risonanza energetica due cose si due o più cose si attraggono quando vibrano nella stessa frequenza quindi è importante se io voglio andare da un punto a a un punto b ok il processo di manifestazione il processo che mi consente di arrivare da a e b deve essere un processo di allineamento dell'intero sistema nella direzione dei miei sogni e dei miei obiettivi i miei pensieri devono essere allineati alle mie emozioni le mie emozioni devono essere allineate alle mie azioni e come un laser io focalizzo l'intero sistema tutta la mia energia nella direzione del mio sogno e del mio obiettivo la legge della trazione una legge universale quindi è una legge che esiste e noi manifestiamo nella nostra vita in maniera consapevole o inconsapevole è per questo che molte anime che si stanno risvegliando alle energie e alla consapevolezza vogliono imparare a manifestare consapevolmente i propri sogni i propri obiettivi allora cerchiamo di essere chiari quando noi siamo molto specifici in ciò che desideriamo è fondamentale per la legge dell'attrazione essere chiari e quindi dire esattamente che cosa vogliamo è inutile dire voglio guadagnare tanti soldi anche perché per me tanti soldi possono voler dire 100 mila euro al mese per un'altra persona tanti soldi possono voler dire 5 mila euro al mese quindi è molto importante che io dico nelle mie preghiere nelle mie intenzioni quando io scrivo i miei obiettivi o quando io faccio le mie affermazioni positive dire esattamente quanto voglio guadagnare grazie perché guadagno 5 mila euro al mese io consiglio sempre ai miei clienti nel coaching quando facciamo il processo di manifestazione di scrivere dai 50 ai 100 desideri ma è anche vero che quando noi lavoriamo nella trasformazione energetica ci focalizziamo massimo dai 3 ai 5 desideri affinché non solo le nostre intenzioni vadano nella direzione del sogno ma l'intera nostra energia all'intero nostro sistema è molto importante che i nostri pensieri parole azioni e l'intera nostra energia si focalizzi in un determinato obiettivo in un determinato scopo che io voglio raggiungere facciamo l'esempio io voglio guadagnare come ho detto prima 5 mila euro al mese quindi io affermo giornalmente nelle mie affermazioni positive grazie perché io guadagno 5 mila euro al mese cosa succede succede che molto spesso quando io dico grazie perché guadagno 5 mila euro al mese come che li sto già guadagnando in realtà magari non è vero perché in questo momento non ho soldi oppure guadagno a malapena mille mille cinque duemila euro quindi sento una discrepanza cioè sento una c'è come un una sensazione di disagio non mi sento allineata in quello che io sto verbalizzando ricordiamoci che l'amore universale l'universo risponde non solo alle nostre intenzioni e parole ma anche alla nostra energia quindi è molto importante che quando io dico grazie perché guadagno 5 mila euro al mese l'intero mio sistema l'intero mio campo energetico vibra nella frequenza dei 5 mila euro al mese quindi ho sento visualizzo sento sono io sono 5 mila euro al mese io guadagno 5 mila euro al mese io sono convinta di questo che è possibile che sono degna che sono meritevole molte persone invece quando iniziano a fare le affermazioni positive o non si sentono degne o non si sentono abbastanza o hanno paura o è troppo difficile e quante ore devo lavorare e iniziano ad arrivare tanti pensieri di sabotaggio ecco che qui interviene il processo di guarigione con la con il metodo di logo ceiling logo ceiling è un lavoro molto potente che aiuta a eliminare tutte quelle credenze sabotanti tutti quei pensieri negativi tutte quelle energie che ci fanno sentire a disagio quando noi affermiamo quello che vogliamo quindi ci aiuta a riallineare la nostra energia nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi e quando la nostra energia è allineata quando i nostri pensieri e le nostre emozioni entrano in risonanza con l'energia del nostro sogno del nostro obiettivo naturalmente è fondamentale anche agire nella direzione del nostro sogno quando tutto è in allineamento ecco che il nostro sogno si manifesta nel piano della materia allora apparentemente molto semplice da dire in realtà è anche molto semplice da fare io vi consiglio di ascoltare le testimonianze che vi metterò qui su di tutte le persone che hanno lavorato con me con logo ceiling per eliminare le paure per cambiare le credenze molto velocemente per ritrovare un equilibrio emozionale ma anche per manifestare i propri sogni e i propri obiettivi dell'anima in quanto logo ceiling comprende anche un processo di riprogrammazione attraverso il quale quando noi affermiamo il nostro sogno grazie perché guadagno 5 mila euro al mese vi è in associazione un'emozione positiva che entra in risonanza col sogno e quindi noi entriamo nella frequenza della gioia nella frequenza della gratitudine nella frequenza della manifestazione se volete maggiori informazioni non esitate a contattarmi io vi saluto e vi auguro una meravigliosa giornata grazie ciao